buongiorno vediamo altre cose teoriche un po più nello specifico cioè l'ultima volta abbiamo fatto visto un po l'evoluzione della rete internet nei decenni perché nei secoli no troppo poco e vediamo due sistemi molto utili che vengono utilizzati oggi dalla rete internet più che altro per il web allora il primo è il dns che magari qualcuno ha già sentito parlare però non so mai chiesto cosa fosse sempre hanno poi sigle ultra complesse ma in realtà sono semplicissime e poi il proxy server vediamo questi due e poi passiamo ad altri argomenti nelle prossime lezioni allora cos'è intanto un dns quando voi scrivete in nel browser google.com qualsiasi altro sito lui deve convertire quel sito in un indirizzo ip ok visto che ogni computer un indirizzo ip questo al mio però interno di casa c'è anche un ip esterno per la rete internet quello che poi serve per raggiungere i computer nel mondo dove gira google dove gira qualsiasi cosa argo quello che vi serve e allora io per vedere l'ip provo a far così pingo il sito l'avamo già visto forse nel primo quadrimestre primo trimestre e lui me lo converte in indirizzo ip ok quindi avevamo visto che ogni indirizzo simbolico che non vuol dire simbolico come in italiano ma vuol dire tipo composto da simboli cioè lettere e numeri questo indirizzo deve essere convertito in un indirizzo ip con quattro numeri che vanno da uno già da 0 a 255 che poi verrà convertito in binario ok perciò quello che fa il dns non è altro che convertire questo indirizzo simbolico in un indirizzo ip numerico va bene se io faccio tipo e vediamo insieme una roba il nostro fantastico isis in audi punto edu punto it e se funziona il ping perché non su tutti i siti abilitato edu punto it allora il ping non è abilitato ma la conversione vedete che me la fa 50 17 164 244 io volendo potrei prendere questo dp copiarmelo e fare il p tracking vedere un po dove si trova il nostro sito della scuola se voleste buttarlo giù tanto in uccia non è inutile però diciamo che tutte le cose sono su argo anche le circolari tutto è utilissimo non buttate lo giù però comunque eccolo qua a dublino davvero ok abbiamo appena scoperto che il nostro fantastico sito di nella scuola gira su un server amazon quindi hanno preso in in affitto una parte di server avs per metterci su il nostro sito e amazon questo server a dublino ok mi dice anche fantastico il meteo che c'è lì dove c'è il server ok se voi lanciaste non lo so un missile qua in questo punto qua in queste coordinate e poi provate ad accedere al sito probabilmente non non lo vedreste più non mi sto dicendo di farlo ovviamente sto dicendo solo che questo sito qua viene convertito in un indirizzo ip ok e dall'ip poi posso risalire dove si trova eccetera il dns non fa altro che convertire questo nome in un indirizzo ip l'oggetto tre volte e quindi si chiama domain name system ok sono dei sistemi delle tabelle enormi che contengono tutti i siti del mondo praticamente e quando uno poi scrive il nome del sito quel nome viene convertito in numero ok eccolo qua nel senso c'è una origine mondiale ok deve esserci comunque una tabella con tutti i i nomi dei siti e con il loro indirizzo ip e poi ogni singolo paese non so ogni singola frazione di di mondo richiede questo cioè si aggiorna ogni tot richiede questi nuovi indirizzi in modo che poi vadano anche nelle zone più piccole cioè facciamo un'ipotesi questo è il mondo questi sono gli stati queste sono le regioni in ogni regione c'è un dns con dentro tutte le gli indirizzi web del mondo non solo di quella regione ma del mondo viene replicato perché il concetto è che non posso cioè non è che ognuno ognuna delle miliardi di persone che ogni secondo vabbè ogni minuto scrivono un indirizzo web non è che posso andare a chiederlo a questo pc centrale perché collasserebbe in 321 allora vengono fatte delle copie di queste tabelle dns in modo che poi anche i server locali cioè senza andare a scomodare il signor internet posso anche quando iscrivo google.it non va fino lì ma va magari a un server dns della telecom o della fast non lo so tant'è che spesso nella configurazione dns viene messo direttamente il dns telecom comunque vediamo un po' che dns ho qua dentro io ah no ok il mio dns praticamente viene impostato dal dal mio router di casa e lui stesso fa la dns quindi probabilmente cache e adesso vi spiego cosa vuol dire i siti che ho già visitato per non andare a pesantire quelli di telecom ok il concetto è semplice e adesso vediamo appunto il proxy cosa serve allora se io entro 20 volte in wikipedia non mi serve ogni volta .org rispondo al ping grande wikipedia non mi serve ogni volta andare fino alla telecom e chiedere l'ip perché se entro 20 volte sarebbe più comodo avere una cache una copia dei dati dell'indirizzo ip io posso anche scrivere qua l'indirizzo ip c'è un errore in wikipedia oppure ho scritto o no gli piace che metto l'ip non gli piace che metto l'ip perfetto ok quindi dovrei metterlo tipo qua ah però è in wikipedia.org eh sì dovrei fare in.wikipedia.org magari cambia l'ip no è lo stesso identico allora basta che faccio così tac eh vai eh non mi lascio cattivo però comunque i loro server si trovano lì ma se vogliamo vedere dove si trovino fisicamente allora si trova dutch Amsterdam yeah ovviamente non è l'unico server dove c'è wikipedia ok ce ne sono tanti io cioè mi avrei rindirizzato a questo perché è il più vicino eh però ce ne sono tanti in tutto il mondo quindi c'è anche un meccanismo di rindirizzamento un po' complesso e soprattutto di google cioè google ha un casino di server è tipo di notte usa i server dove è notte per fare le ricerche dove è giorno per bilanciare il carico cioè è una cosa pazzesca però lo fanno sul loro impero non tromonta mai il sole diceva la storia allora vediamo un attimo c'è questo proxy server che è simile come idea del caching nel senso vabbè il dns ok è alla fine un server che non fa altro che io gli chiedo google.it e lui mi ritorna un indirizzo IP il proxy invece è un server che io posso creare in casa mia o potremmo crearlo a scuola magari visto che non c'è sarebbe molto utile ho chiesto tante volte i tecnici serve a diciamo processare tutte le richieste web o internet più web più che altro che passano nella scuola quando uno di voi scrive www.giochigratis.it non lo so su un computer nella scuola nessuno vi controlla cioè tranne io se passo per caso invece grazie al proxy server la richiesta al sito www.giochigratis.it passerebbe dal proxy per forza se fatta attraverso la rete scolastica ovviamente non usando il vostro cellulare 3G eccetera ma con la rete scolastica di solito si fa per le wifi sta cosa perché wifi uno si connette però voglio vedere cosa fa anche se in realtà non è possibile per la privacy quindi quello che fa un proxy è comunque salvare tutti i siti che l'utente visita e creare delle statistiche che gli utenti visitano e creare delle statistiche quindi dire questo sito è stato visto è stato visto questo no questo si questo no uno dei primi lavori che ho fatto in ufficio appena diplomato è stato quello di controllare questo proxy e vedere i dipendenti dove i sui siti andavano scoprivo ovviamente che appena si arrivava vicino alle vacanze cose così tutti a cercare vacanze vacanze con la rete dell'ufficio che ai tempi non c'era neanche 3G cose cellulari smartphone che andavano in internet cioè c'erano ma ce l'avevo solo io e non si chiamavano neanche smartphone ma palmari computer palmari comunque il concetto è che passando attraverso questo proxy loro lasciavano tutte le tracce su questo proxy io non potevo andare a vedere la persona che faceva questa cosa quindi non potevo andare alla persona a dire guarda che tu hai visto il sito bla 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 non puoi ma potevo dire ok questo sito non è ammissibile perché parla di cose strane così che non va bene per l'azienda allora lo blocchiamo quindi proxy fa anche da blacklist da blocking server che impedisce di visitare certi siti web e quindi quando in una wifi non potete andare a vedere certe cose tipo in biblioteca magari hanno bloccato certi siti spero di sì perché spero di sì allora il proxy è il proxy che vi blocca ok quindi proxy fa da blocco siti quindi blacklist addirittura si può fare una whitelist cioè al contrario blocco tutto e permetto di andare solo su questi siti qua però è un po' pesante come cosa ma si può fare si può fare tutto e l'altra cosa importantissima che fa il proxy vabbè sì ok quindi controlla gli accessi controlla che siti guardate controlla il download quindi i computer che vedo che scaricavano 8 giga al giorno da internet a quei tempi c'era non lo so un mega in tutta l'azienda condivisa andavamo poi a limitargli la banda poi fare anche quello perché non è che uno può scaricare il mondo e gli altri no quindi il proxy fa anche questo limitare la banda e importantissima fa da cache come vi dicevo prima cosa è la cache allora mettiamo che 100 persone aprano questa pagina su wikipedia è inutile andare no non è questo l'esempio che voglio è questo è inutile andare ogni volta a scomodare il server che vi ho fatto vedere lì ad Amsterdam prima col tracking dall'IP se 100 persone nella stessa rete nello stesso momento o quasi vanno a vedere la stessa pagina che probabilmente non è cambiata e cambierà magari ogni giorno lo so ogni mese ogni anno dipende è inutile andare a chiedere ogni volta al server ma il proxy si fa una copia ok una copia dentro il proxy che si trova nella scuola cioè è un pc è un server che si trova nella scuola si tiene copia di tutte le pagine visitate da tutti gli utenti se tutti aprono la stessa pagina il proxy anziché andare a disturbare il server permette a tutti di scaricare quella pagina da se stesso piccola parentesi abbiamo installato quest'anno un visual studio su tutti i pc dei laboratori ci abbiamo messo giorni perché comunque giustamente erano tanti gigabyte erano e era una sola connessione per tutti divisa fra tutti quindi a casa mi ha ci ho messo molto di meno perché ho la connessione comunque solo per il mio pc o per due o tre pc e quindi non non appesantisce così tanto se io avesse avuto un proxy nella scuola avrei potuto scaricare da un pc visual studio gratuito installato e poi gli altri se il proxy è stato fatto bene e se lo permetteva Microsoft penso di sì potevano scaricarsi in un attimo dal proxy della scuola la stessa cosa che ha scaricato l'altro quindi capite che anziché scaricare 4 gigabyte per 40 computer cioè 160 giga avrei scaricato 4 gigabyte su un computer e poi gli altri 39 avrebbero scaricato direttamente dal proxy server della scuola i file per l'installazione quindi capite che un proxy vuol dire che evita un sacco di richieste di intasamento della rete telefonica un sacco di cose è importantissimo per le reti grandi la scuola non viene considerata forse rette grande vabbè in effetti non abbiamo tutti questi computer però un proxy secondo me potrebbe velocizzare un sacco di cose tra cui Argo che già è lento di suo se poi facciamo 100 richieste al mattino tutti da stessa ora capite che si siede e va bene quindi il proxy importantissimo filtraggio dei siti impedire di andare su certi siti e cash non cash come soldi ma c c a c h e cache cache memory memory cache che si salva i siti già visitati ovviamente la cache è una scadenza non è che posso dopo un mese far vedere la stessa pagina a uno che entra dopo non lo so un'ora o un giorno decide chi imposta il proxy quando lo installa fai scadere la pagina e dici ok adesso però vai a chiedere la pagina aggiornata al server perché magari ci sono delle informazioni importanti che sono state aggiornate ok vieni a trovare l'equilibrio giusto tra non quello tra l'avere le cose ultra aggiornate e l'avere la banda libera certo se uno ha dieci fibre ottiche che arrivano a scuola chiaramente il proxy non serve nemmeno che casci le pagine ma se uno ha una linea sola da dieci megabit che inizia tanto per una scuola per tutta la scuola capite che forse conviene proxare almeno le pagine più visitate va bene ok spero di non avervi annoiato queste cose segnatevele perché prima o poi in qualche modo le chiederò ok grazie arrivederci